Nuovo appuntamento con Spazio Notizia ben ritrovati. Apriamo parlando di cronaca partendo da Catania e dall'arresto effettuato dalla polizia di un pusher minorenne. La polizia ha tratto in arresto un giovane di 17 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti della squadra volanti della questura di Catania sono intervenuti in un'abitazione nel quartiere Librino dove era stata segnalata una lite in famiglia. Appena giunti sul posto i poliziotti hanno notato che un ragazzo si era affacciato al balcone di casa e alla vista dell'autovettura di servizio aveva lanciato due buste di colore azzurro sperando di non essere scoperto. Tuttavia la mossa del giovane non è sfuggita all'occhio attento degli agenti che hanno recuperato le buste trovando al loro interno un cospicuo quantitativo di marijuana sostanza già suddivisa in dosi pronte per la vendita e hashish. Avendo il fondato sospetto che il giovane potesse nascondere altra droga all'interno della propria abitazione i poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'appartamento. Lo stesso giovane nel maldestro tentativo di farla franca aveva gettato altri 15 grammi circa di marijuana nel cestino dei rifiuti della cucina. Nell'abitazione è stato rinvenuto anche materiale vario per il confezionamento della sostanza e un macchinario per confezionare buste in sottovuoto. Il controllo è stato esteso anche a un'autovettura nella disponibilità del ragazzo all'interno della quale sono state trovate alcune cartucce a salve. Gli agenti hanno deciso di perlustrare anche le aree comuni dell'edificio trovando al piano terra dell'immobile, all'interno di un intercapedine, a ridosso dell'impianto fognario, ulteriori 600 grammi di marijuana e una pistola a salve. Il 17enne come detto è stato arrestato e condotto presso l'istituto penale minorile di Acireale. Si era impossessata dell'eredità di un imprenditore poi deceduto sottraendola al figlio disabile dell'uomo. Sono stati confiscati beni a una badante di Misilmei. Una badante si sarebbe impossessata dei beni milionari di un ricco imprenditore italo-americano dopo averlo circuito, cercando poi di trasferirli all'estero. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di confisca per un ammontare di 2 milioni e 150 mila euro emesso dalla procura generale presso la Corte d'Appello di Palermo a seguito della condanna definitiva di una donna accusata di autoriciclaggio e prosciolta per intervenuta prescrizione dalla sola accusa di circonvenzione di incapace. Le indagini di polizia giudiziaria condotte dalla compagnia di Bagheria sono scattate tra il 2015 e il 2018 e hanno fatto luce sull'operato di una badante di Misilmei che si era impossessata dei beni dell'imprenditore e del figlio disabile ed erede universale. La donna era stata assunta come assistente dell'uomo di origine siciliana, titolare di un'importante catena di lavanderie negli Stati Uniti, rientrato in Italia insieme al figlio affetto da una grave patologia. Lo stesso imprenditore aveva incaricato la donna con proprio testamento di occuparsene per tutta la vita. In cambio le aveva lasciato in eredità 31 cespiti immobiliari tra terreni e appartamenti distribuiti nell'entroterra palermitano per alcuni dei quali era stato però concesso l'usufrutto al figlio finché fosse rimasto in vita. A quest'ultimo inoltre erano state lasciate in eredità anche rilevanti polizze per un valore di oltre 2 milioni di euro. Alla morte dell'imprenditore nel 2014 il perito del tribunale incaricato di valutare la capacità del figlio aveva presentato delle denunce. Secondo il consulente infatti il giovane non sarebbe stato capace di esprimersi correttamente né di attribuire valore al denaro e ai beni di cui era in possesso. Il giovane dopo la perdita del padre avrebbe inoltre sviluppato un'attrazione affettiva nei confronti dell'abbadante nei cui confronti era in stato di sudditanza. La donna avendo compreso di essere indagata avrebbe istruito il figlio dell'imprenditore con l'intento di fare apparire le sue donazioni frutto di scelte coscienti e volontarie. Le indagini e le intercettazioni hanno dimostrato come l'abbadante alla morte del padre si sarebbe fatta intestare dal giovane le polizie assicurative sui propri conti correnti. Poi avrebbe creato una società in Ungheria per nasconderne la provenienza. Da lì sono stati compiuti ulteriori trasferimenti verso paesi extracomunitari per renderne difficoltoso il rintraccio. Cambiamo argomento. Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sono tanti gli eventi in programma in diverse città della Sicilia. A Catania ad esempio si è ripetuto un evento importante e significativo ovvero l'omaggio floreale a Sant'Agata. Ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Le preghiere per tutte le donne vittime di violenza, la speranza per un mondo rinnovato nello spirito. A Sant'Agata oggi e sempre si fa riferimento con il cuore e con la mente. La presidente merita per la festa di Sant'Agata, l'imprenditrice Mariella Gennarino, ha organizzato e riunito ancora una volta la comunità catanese intorno alla martire protettrice e al suo esempio, rendendole omaggio floreale per mano di una vigilessa del corpo dei Vigili del Fuoco per l'iniziativa sociale. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, nella piazzetta antistanti, il santuario di Sant'Agata al carcere a Catania, un mazzo di fiori è stato deposto attraverso la grata del carcere, illuminata dalla luce rossa dei faretti, secondo un rituale di devozione, ha affermato l'imprenditrice, che rinnova ogni volta quel sentimento che ci lega alla nostra Santa Agata e una volta di più stimola una riflessione su un fenomeno sociale che riguarda tutti noi e sulle cui radici profonde dobbiamo interrogarci. Dove nasce tanta ferocia? Dove la nostra società ha fallito? Che tipo di educazione stiamo trasmettendo ai nostri figli? Si chiede l'imprenditrice. Ringraziando di cuore quanti, anche per questa edizione, hanno sostenuto l'iniziativa e presenziato alla cerimonia. Presente anche Don Pasquale Muzzone, il rettore del santuario Sant'Agata al carcere, autorità civili, militari e religiose, l'assessore alle pari opportunità Viviana Lombardo, le numerose associazioni, il comitato per la festa di Sant'Agata. Agata riunisce e unisce e ci stringe intorno alla memoria di chi non c'è più e a quante in modo spesso silente subiscono anche dentro le mura di casa, continua la generino. Il maestro Fabio Raciti, sempre vicino a cause benefiche e sociali, ha creato l'atmosfera intonando musiche di Mozart, Susa, Morricone e inni popolari di Sant'Agata, eseguite dall'ensemble d'arche della classe di violino e musica da camera del liceo musicale statale Turrisi Colonna. Presente anche Rosario Scandurra, presidente della Fondazione Sant'Agata, che ha sottolineato l'importanza di fare rumore, quel rumore che sveglia le coscienze tutti insieme. Ci spostiamo nel Trapanese per parlare di un altro importante evento, organizzato in questo caso dalla Cooperativa Sociale Badia Grande. La Cooperativa Sociale Badia Grande ha promosso un'importante iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne nei centri di accoglienza di Salemi e Vita. Un faro rosso per Marisa e tutte le vittime del femminicidio è il progetto del SAI Marsala, coordinato da Lorena Tortorici, che ha coinvolto in un percorso di consapevolezza sui diritti umani e il rispetto di genere i 44 beneficiari, tra i 19 e i 25 anni, di origine tunisina, guineana, gambiana e bengalese. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il successo di un faro rosso per Marisa e tutte le vittime del femminicidio è stato possibile grazie al lavoro di squadra dell'equip multidisciplinare della Cooperativa Sociale Badia Grande. Il progetto si inserisce in un più ampio programma di integrazione sociale della cooperativa che considera l'educazione al rispetto e la sensibilizzazione culturale strumenti fondamentali per costruire una società più equa e sicura. Il 25 di novembre è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e come ogni anno nei centri di Badia abbiamo deciso di ricordare e raccontare che cosa significa nel territorio tutto questo soprattutto tra Salemi e Vita perché anche noi purtroppo siamo stati colpiti recentemente da un fatto di femminicidio ed è stato l'omicidio di Marisa Leo e insieme ai ragazzi e alle ragazze dei centri abbiamo discusso di un fenomeno che riguarda tutte e tutti e che va oltre le nazionalità e le religioni e abbiamo pensato di non solo raccontare dal punto di vista fotografico e video tutto questo ma di dare un segnale, un contributo anche noi al territorio di vita e di Salemi così come fanno solitamente le istituzioni illuminando dal 23 al 25 i centri di Vita e di Salemi con un faro rosso per dire anche noi tutte e tutti insieme no alla violenza sulle donne La Proloco Vitesse è presente per ricordare questo giorno e per ricordare le vittime uccise per femminicidio e quindi insieme a Badia Grande abbiamo voluto essere presenti e condividere questo momento con gli ospiti di Badia Grande perché è importante essere sul territorio e essere consapevoli di quello che il territorio offre Tante iniziative anche nelle scuole in occasione di questa importante giornata Mauro Romano è stato ad esempio all'Istituto Foscolo di Taormina La dirigente dell'Istituto Comprensivo di Taormina, Carla Santoro oggi stoppa alla violenza alle donne anche nell'Istituto della Foscolo di Taormina Centro una manifestazione alla quale partecipo a numerose classi ma quali sono professoressa? Diciamo che l'azione educativa ha coinvolto un po' tutte le classi di risoluzione scolastica però la manifestazione di oggi invece coinvolge soltanto le classi terze della scuola secondaria di primo grado sia di Taormina e ovviamente anche della sezione staccata di Trappitello perché è sicuramente oggi una giornata di denuncia una giornata in cui tutti noi ci rendiamo conto di quanto il fenomeno sia diventato ingestibile e delle proporzioni che ha assunto ma è anche una giornata di impegno, impegno di tutti noi impegno della scuola che comunque continua a far sì che vengano decostruiti gli stereotipi di genere oltre gli stereotipi di qualsiasi tipo in cui vengono messe in atto strategie per gestire in maniera positiva i conflitti e l'affettività dei ragazzini ma è anche un impegno da parte delle famiglie che insieme alla scuola devono costruire perché quello che viene considerato normale di solito passa attraverso le famiglie è da lì che il ragazzino ha la percezione di quello che è giusto e di quello che è sbagliato quindi le famiglie che aiutano e collaborano con la scuola per far sì che le disparità vengano eliminate tutte è sempre l'occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne sentiamo il messaggio o meglio i messaggi da parte dei carabinieri ogni giorno tantissimi casi di violenza non vengono denunciati anche quelli più gravi che potrebbero avere conseguenze tragiche uscire dal ciclo della violenza si può sei tu a scegliere non temere di fare il primo passo per mettere fine alla sofferenza parlane con qualcuno di cui ti scimi è la cosa più importante da fare rivolgiti ai carabinieri con fiducia nelle nostre caserme troverai personale qualificato che saprà ascoltarti, comprenderti e farti sentire al sicuro oggi la legge prevede nuove possibilità di accoglienza e di supporto contributi psicologici, legali, economici e lavorativi per le vittime di violenza e per i familiari gli strumenti per iniziare una nuova vita libera da coercizioni ci sono l'importante è sapere come utilizzarli noi possiamo aiutarti ricorda chi ti ama veramente ti fa sentire libera cambiamo argomento parliamo dell'influenza sono oltre 400.000 le persone colpite nell'ultima settimana di monitoraggio si stima già 2 milioni di casi di influenza in Italia nell'ultima settimana monitorata i casi stimati di sindrome similinfluenzale rapportati all'intera popolazione italiana sono stati circa 418.000 per un totale di circa 1.792.000 casi a partire dall'inizio del monitoraggio che potrebbero avere già raggiunto in questi giorni i 2 milioni di casi lo afferma l'ultimo bollettino della sorveglianza respi beer net secondo cui l'incidenza delle sindrome similinfluenzali è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente con un livello pari a 7,1 casi per mille assistiti è minore di quello osservato nella scorsa stagione maggiormente colpiti i bambini sotto i 5 anni di età con una incidenza pari a 15,9 casi per mille assistiti in metà delle regioni italiane il livello di incidenza è sopra la soglia basale durante la prima settimana di sorveglianza virologica per la stagione 2024-2025 si registra una limitata circolazione dei virus influenzali su 1.038 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete respi beer net 17, l'1,6% sono risultati positivi al virus influenzale 14 di tipo A e 3 di tipo B Parliamo di ambiente con l'Unione Europea che ha selezionato tre progetti siciliani per la tutela di oceani e mari Sono tre e tutti siciliani i progetti che sono stati selezionati dall'Unione Europea nell'ambito della missione Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque per ricevere assistenza da parte di esperti internazionali per la loro realizzazione Una delle tre proposte fa capo alla regione siciliana ed è stata presentata dal Dipartimento Ambiente guidato da Patrizia Valenti Si intitola Decarbonizzazione del trasporto marittimo tra la Sicilia e le isole minori e mira a ridurre la produzione di carbonio nei collegamenti e di conseguenza l'inquinamento dei nostri mari L'obiettivo del progetto, infatti, è condurre analisi di fattibilità tecnico-economica per valutare la fattibilità di istituire servizi di trasporto marittimo a emissioni zero per la regione siciliana al servizio dei collegamenti con le 11 isole minori Gli altri due progetti selezionati sono del Comune di Marsala Indagini batimetriche e correntometriche e realizzazione di interventi di protezione e ripascimenti del litorale dell'area di Colmata a Torre Sibiliana e del Comune di Palermo, Mare Nostrum Su 20 progetti finanziati in tutta Europa ha dichiarato l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Giussi Savarino la Sicilia si è aggiudicata a tutti e tre i posti che ogni Stato membro aveva a disposizione Questo è il segno di quanto seriamente la nostra terra e la nostra regione in particolare ha a cuore la salvaguardia dell'ambiente Un impegno costante che portiamo avanti con lo sguardo rivolto al futuro L'iniziativa dell'Unione Europea è stata messa a punto per conseguire entro il 2030 gli obiettivi di protezione e ripristino degli ecosistemi e della biodiversità di inquinamento zero, decarbonizzazione e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra con lo scopo di arrivare alla neutralità climatica negli oceani nei mari e nelle acque europee Se la salute mentale di un individuo è precaria le sue ricerche online, le ricerche web saranno con contenuti negativi e quindi dannose Questo dice un recente studio Se la salute mentale di un individuo è precaria le sue ricerche online hanno contenuti negativi il che ne aggrava ulteriormente il quadro psichico Lo rivela uno studio della University College di Londra secondo cui la relazione tra salute mentale e navigazione sul web è causale e bidirezionale I ricercatori hanno anche sviluppato uno strumento che aggiunge dei tag alle pagine web simili alle etichette nutrizionali sugli alimenti Queste etichette sottolineano l'impatto emotivo del contenuto della pagina insieme alla sua praticità e informatività Oltre mille partecipanti allo studio hanno risposto a domande sulla loro salute mentale e condiviso la loro cronologia di navigazione web con i ricercatori che hanno analizzato il tono emotivo delle pagine visitate È emerso che i partecipanti con stati d'animo peggiori e sintomi di salute mentale più gravi erano inclini a navigare in pagine con contenuti più negativi e dopo la navigazione si sentivano ulteriormente peggiorati In uno studio aggiuntivo i ricercatori hanno manipolato i siti web visitati esponendo alcuni partecipanti a contenuti negativi e altri a contenuti neutri Coloro che avevano visitato siti negativi hanno riportato un peggioramento dell'umore dimostrando che sono proprio i contenuti negativi a causare il peggioramento Inoltre, quando questi partecipanti hanno poi navigato liberamente quelli che avevano visto contenuti negativi hanno scelto altri contenuti negativi evidenziando così una relazione bidirezionale I contenuti negativi influenzano l'umore e un umore peggiore spinge a consumare più contenuti negativi Usando infine le etichette i partecipanti hanno preferito navigare su siti etichettati positivamente e successivamente hanno riportato miglioramenti d'umore In Italia e nel mondo cresce la domanda per le olive da tavola La domanda per il mercato delle olive da tavola secondo i dati recentemente presentati dall'associazione di categoria Assom ha registrato un aumento sia in Italia che a livello globale spinta dalla loro popolarità in ambiti come aperitivi, cucina, ristorazione e pizzerie Secondo gli ultimi dati presentati in Italia il consumo annuale di circa 149.000 tonnellate ma la produzione nazionale pari a 77.000 tonnellate non è sufficiente a soddisfare la domanda obbligando il paese a ricorrere all'importazione pur esportando circa 36.000 tonnellate A livello mondiale la produzione di olive da tavola raggiunge i 3 milioni di tonnellate Paesi come Stati Uniti, Arabia Saudita, Brasile e Canada stanno mostrando un crescente interesse per questo prodotto strettamente legato all'Italian style e alla dieta mediterranea I dati sull'export segmento che vive di anno in anno una costante ascesa sfiorano quota 20% sulle vendite e una presenza che si estende su oltre 30 paesi Fuori dai confini nazionali sono gli Stati Uniti il mercato che vale il 45% delle esportazioni complessive e tra i nuovi mercati di sbocco Giappone, Cina e Medio Oriente E' tutto possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia Giappone, Cina e Medio Oriente Giappone, Cina e Medio Oriente Giappone, Cina e Medio Oriente Giappone, Cina e Medio Oriente